rieccoci qui ragazzi con un nuovo episodio della serie il melmonic pack evolution e adesso voglio partire subito senza perdere tempo ragazzi a continuare a fare questo servizietto dovevamo continuare a potenziare le macchine allora noi adesso qui per far funzionare quello che ci serve abbiamo bisogno vi dico subito di dove sta vediamo un attimino lo sto cercando questo allora questo si fa così però noi avevamo bisogno di questo proprio così ragazzi di questo questo abbiamo bisogno quattro di queste qua come si fanno queste ai cos'è qua i semi ok mettiamo queste tendrona crafting vediamo cosa succede ragazzi mettiamo subito un lingotto tutto 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 cinque abbastano vediamo un po dobbiamo fare quanti gigi facciamo solo due mi sa che non bastano ci si fanno quattro ruote quindi ancora è dura vediamo un po se possono bastare no lo facciamo solo uno cavolo allora questo si fa così ok dovremmo aver finito un altro un altro lingottino eccoci qua ecco qua ecco qua tutto ragazzi forse ci siamo rivediamo un attimino il grafting si ok quattro abbiamo i bassoncini servono due questa questa come si fa si fa due così è uno di questo allora uno di questo è i lingottini di qua ecco alla abbiamo preso pure quest'altra ci manca altro vediamo eh sì questo è il più importante allora qua mi sa che dobbiamo andare giù mi sa che devo tornare giù perché non ho i materiali dietro allora tutto questo per fare cosa ragazzi per far funzionare ammazza ragazzi qua non c'ho oro non ci voglio credere non ci abbiamo oro uff no cosa possiamo vendere vendiamo un diamante per forza devo vendere un diamante ragazzi ho bisogno di oro c'è poco da fa dove sta qua ma cavolo porca miseria porca porca miseria porca porca due non ci voglio credere due di oro sono così pochi che ci faccio con questi due quanto mi servono una marea ma quanto cacchio di oro ma non ho messo a fare niente oro non è possibile che non ho messo a farlo non c'ho oro ma dai veramente ma ragazzi non ci voglio credere speriamo di averne ancora in sbloccaus dove sta cinque troppo poco ragazzi troppo poco è molto troppo poco mazza cacchio devo spiegarlo di qua che di là ne facevamo un bordello porca miseria e ci toccherà andare a mineggiare spero di farcela spero di farcela veramente con quest'oro quanto me ne serve quanto me ne serve per far sto cosa ne servono tre vabbè se già potrei farlo un ender pearl e due di questi qui ok abbiamo tutto facciamoci aiutare fuori facciamoci aiutare nel craft no nella work table andiamo a fare questo ok andiamo nella no però questo no questo non si fa nella work table questo si fa nella crafty ok allora uno due e tre un ender pearl qua poi ci mettiamo i tre lingotini di steel e cari di stronti uno e due presi ragazzi fatta ora abbiamo tutto possiamo andare nella wall qui dentro e facciamo questo qua questo qua questo 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 qua e te pareva e te pareva e te pareva non ci credo non ci credo non ci credo ma ragazzi non ci voglio credere veramente guarda non ci voglio proprio credere però crediamoci così ragazzi eccola abbiamo preso questo che ci serviva a noi ok ora invece si servono le sbelle ecco come si chiamano queste cose le cinghie come si chiamano come si chiamano eccole qua queste ammazza ragazzi guardate quante pelli del cacchio la mia pelle mi servono tante pelli quindi qua mi sa che dobbiamo vendere forza qualcosa perché tutte queste pelle io non ce le ho ho queste questa qua no questa qua lasciamo qua non so che è un po' su buone ma le tengo cerco di vendere qualcosa questa si può vendere no te pareva le uova niente libro niente non cacchio non si vende questo non si vende niente 64 la slime no questa 0 0 0 32 0 non si vende niente cacchio vabbè di qua invece vediamo un po' se i cervelli sono 400 0 32 cavolo ragazzi 198 lapis 64 queste 128 64 c'è non vale un cacchio pelli che vi devo dire vediamo quante pelli recuperiamo con tutta st'ampara ecco la to ciò pede ciò pede lampara uffu ragazzi 56 pellicine senza andare a ammazzare niente così gli animalisti non si incazzano sono 60 pelli sinceramente 60 pelli sono 60 pelli vediamo un po' vediamo che ne devo fare un bel bottone ragazzi veramente ne devo fare un casino di quelle cacchie di cose 6 7 che ci faccio 7 mi sarei dovendo un'altra roba perché sono veramente 14 però ne abbiamo preso ragazzi perché ne dava 2 ognuna devo vedere cominciamo ad andare a montare il marchinario il marchinario ok ti devi girare tac tac ok no tac no ok così 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 allora dove stanno gli altri macchinari ora così vi faccio vedere mettendo un altro di questo qui davanti vi faccio vedere la differenza poi dobbiamo girarlo naturalmente tac ecco qua vi faccio vedere poi la differenza di corrente solo montando questo qui mazza ragazzi me ne manca ancora una sola ottimo direi ottimo direi ragazzi direi ottimo ne manca una metto a vendere qualcosina giusto per vediamo un po' di qua che potremmo vendere questi si possono vendere sti cosi no 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 questo 32 che ci fanno questo niente questo no mi sarebbe uuuuuh niente 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 ok 400 cosa ti amo niente di 6 6 vabbè 7 niente 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 che cacchia non vale niente 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 il vino vale 48 la terra vale 1 quindi ho buttato 32 cioè tu prendi uno stack di terra e lui ti da 64 e basta poi mi viene un cazzo c'è una pelle due pelli due pelli facciamo così uno e due così ci da qualcosa in più eccole là ma a noi ci serve giusto giusto una capisci e altre avanzano ecco qua le pellicine ma non mi serve lo zaino scusami ma mi serve la cinghia ok no dove vado questo la devo mettere lì eccoci qua ragazzi questa la montiamo qui tampete e questa c'è avanzata ok qui mettiamo 16 la velocità di rotazione della macchinozza e andiamo fuori ora vi faccio vedere la differenza di velocità si buonanotte buonanotte eh si vabbè ho capito mi sono incastrato ormai questo mio avatar non sta bene allora vediamo dove l'ho messa ecco di qua ne prendo giusto uno ma giusto per farlo vedere questi è faticoso farli però siccome stiamo facendo il videozzo eh 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 quindi bisogna far vedere vi faccio vedere un'altra cosa com'è comodo questo coso io vado a motore ci butto dentro questa papam e vi faccio vedere guardate la velocità 8 8 speed com'è è di meno perché oh perché è la torcia cacchio allora vediamo un attimo il power è la stessa non si sta girando gira gira ecco è giusto però mi sembra strana la velocità non lo so vediamo 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 cosa mi mancava mi mancava quel pezzo lì dove cavolo sta non lo trovo mai eccolo qua questo qua i bevel gears questo come si fa ragazzi si fa così allora sti benedetti fogli bastoncini lingottina questo si fa così veda tre tutto e tutto tutto con questi lingotti cavolo mazza cosa mi serve il lingotto e il lingotto ecco qua prendiamo questo ecco qua ora ha finito la di girare boh e po 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 poi dove sta dove l'ho messo e qua questo abbiamo fatto i foglietti e bastoncini bastoncini abbiamo uno quindi non mi sa che non ci basta la roba mi sa che non ci basta la roba vediamo ci dovrebbe bastare se no dovremmo andare giù di nuovo era per non andare giù tre cinque io l'ho fatti quattro te pareva e te pareva boh ok ta 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 ok questo qua poi com'era questo qua questo qua un lingotto va andava qua che cavolo è la rondella andava qua e te pareva cosa abbiamo detto ragazzi le macchine si costruiscono dentro quell'altra crafting madonna quante volte l'ho detto un bordello e che faccio sempre le stesse cose e va bene andiamo dall'altro lato vuoi o non vuoi giù bene vedi cammina da solo tu giri lui è dritto è dritto e mi distorti ma io non lo so questo che ci fa perché sei qua perché sei qua devo costruire ah si devo costruire questo le fractionation comunque sto qua ragazzi questo è quello che vedremo penso nella prossima puntata perché se no qua non andiamo più avanti allora ricapitolando questo mettiamo qua bastoncino mettiamo qua e qua o l'ingotto lo mettiamo qua questi ben detti fogli di carta dove stanno questi qua li mettiamo qua tatac abbiamo fatta ora vediamo se riusciamo a fare questo ragazzi ok mi serve questa ossidiana si ma il vetro non ho il vetro vediamo se abbiamo il vetro qua si che abbiamo il vetro questo qua non mi serve possiamo posarlo qua allora vediamo ossidiana così e il vetro è in mezzo eccola là perché non ce la fa fa per quale motivo work table l'ha visto ma dico io non riesco a capire c'è un po' di qua un po' di là li facciamo di qua li facciamo di là boh non si è capito vabbè mettiamo di nuovo di qua questa facciamo la di là eccoci qua fatto questo poi cosa mi serve più questa ce l'abbiamo il foglietto base blazer ce l'abbiamo base panel ce l'ho ecco là quanto me ne serve ne ho due quando me ne accorrono uno e sei lingotti di oro e dove stanno ah loro eccoli dieci ammazza ta mi ne servono sei devo avere già tutto e questo qui poi vi farò vedere la prossima puntata ragazzi perché se no mi sa che andiamo fuori perché servono dei materiali veramente un po' particolari anche le blaze come si chiamano le palle di blaze che cavolo sono devo cercarmi ancora un po' di materiale in giro non ho ancora tutto per fare sto video vado prima in giro a reperire il materiale a meno averne nell'inventario perché se lo facciamo insieme mi sa che il video non ne vengo più fuori dura troppo troppo bisogna fare video un po' più corti perché se no veramente sono lunghi ci metto un casino di tempo a caricare qui altro che fibra ci vorrebbe proprio il postino che te la porta a casa allora rimettiamo qua dentro questi poi com'era questo qua poi c'era mi sembra questa qua e poi mi ricordo ah la pedana sotto la pedana qua ecco là sta tanga e ora andiamo a posizionarli al loro posto tu 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 guarda come giro giro proprio in ritardo ok fermati qua fermati fermati ok questo va qua tangati cacciavite girala un po' allora facciamo così allora il rosa è il blu è uscita ok il rosa è in e il blu è out vediamo devo tirare via sto cubo penso di sì e sì sì è giusto così qua sopra ci mettiamo quest'altro patapam patapam oh shift e tinghete eccoci qua ragazzi questa è la macchina che ci fa far dudu dudu tutto però io sinceramente questo lo tirerei via da qua perché l'avevo messo giusto in un dimostrativo ragazzi però non vedo che cazzo serve secondo me è meglio se lo metto più avanti e recupero lo spazio pure un po' dietro che dite ma sì siamo via questo ok vangalate per forza le cinghie vabbè le rimettiamo ok 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 rimettiamo di nuovo pian pian tutti 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 no 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 devi girare devi girare ok così questo mettiamo qua dopo ci devi mettiamoci direttamente questo così vabbè buonanotte buonanotte ok ok qua volevo metterci air monitor ok e dovrebbe funzionare qui dentro adesso non ricordo bisogna vedere cosa ci va dentro ve lo dico subito ecco qua per fare questo ecco questa è la roba che ci va carbone carbonella media rack da fare magma cream che si fanno così quindi abbiamo quelle palle ce le abbiamo queste pure devo preparare un po' di cose ragazzi se faccio tutto adesso possiamo fare subito velocemente che cosa ci costa così la facciamo insieme senza portarcela poi in un altro video ok che balls prendiamo abbiamo quelle blu quelle si 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 eccola qua queste sono qua queste mi serviranno ok poi di qua ci sono le bolse eccole qui le boards andiamo nella crafting facciamo un po' di magma queste cose qui quindi le faccio boh basta 6 che poi queste mi servono pure queste altre ma quanta roba quanta roba mi devo svuotare dove sta qua via c'è altro da svuotare no si questa no questa posso portarla giù perché la facciamo là ok basta così poi vi serviva il ehm nedra dove cavolo sta il nedra no eccolo qua il nedra questo la la polverizziamo un pochettino carbone carbonella poi cosa serve più mi ricordo quanta cavola di roba questa questa è la sabbia delle anime non so se ce l'ho ragazzi non ce l'ho devo andare a prenderla cacchio cacchio vediamo un attimo se riusciamo a reperire sta cosa cioè solo sto modo si solo questo modo bene su full ci fanno le api non c'è altro modo ragazzi non c'è altro modo devo andare in eternidad ragazzi toccherà andare la prossima volta perché ah poi mi serve anche la gas devo andare a ammazzare un gas eh sì devo la far e ragazzi mi toccherà farlo off camera se no non escevo più perché le macchine della rotary qui della meccanismo sono troppo complicate sono veramente complicate necessitano di tanti pezzi da e di materiali soprattutto ferro e altri materiali in particolare che voi se non avete in casa dovete andare a cercarvelo e allora niente ragazzi lasciamo così per oggi i macchinari così io mi vado a preparare gli ingredienti da mettere qui dentro così ci facciamo il nostro bel fuel per far partire poi il nostro motore a turbina che ci che ci da che ci fa partire quella macchina che ci moltiplica i nostri i nostri or quindi sarà una macchina molto importante allora per oggi è tutto ragazzi seguite la serie ci vediamo nel prossimo episodio va bene ricordate di votare non vi dimenticate ciao